126 progetti già trasmessi al governo e altri 17 da aggiungere, un report di 86 pagine per un totale di 5 miliardi di euro da investire nella Capitanata. Il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, assieme al Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell'Università di Foggia, ha presentato tutte le attività e progetti previsti per gli investimenti territoriali. Al tavolo tecnico sono arrivati vecchi sogni nel cassetto e nuove ipotesi di sviluppo più o meno ambiziose. Per primo, il progetto di ammodernamento e realizzazione di piani irrigui della diga di Piano dei Limiti, con un budget stimato di 250 milioni di euro, progetto presentato dall'area interna a Montidauni che ha confezionato il pacchetto con ben 24 interventi. Per il miglioramento delle reti stradali, il completamento della strada regionale numero 1, per la quale sono stati chiesti 500 milioni di euro, da investire per il tratto Candela Poggio Imperiale. Per i comuni, il progetto per il collegamento funiviario panoramico dei borghi di Alberona Montepagliarone Crocione, per un totale di 14 milioni di euro. I progetti del comune di Ascolis Adriano, a partire dai lavori di completamento per il recupero del sito archeologico di Faragola, fino ai lavori di completamento per il restauro e l'adeguamento funzionale del Castello Ducale, per 6,3 milioni di euro in totale. Infine, anche la realizzazione di una piscina pubblica per 1,3 milioni di euro. 11 progetti per il comune di Foggia, 8 dei quali presentati con l'ufficio di gestione Parco Naturale Regionale Bosco in Coronata. Il più ingente riguarda il completamento dell'orbitale per 82 milioni di euro e la realizzazione di due linee per il trasporto pubblico con menze e propulsione elettrica per 15 milioni di euro. A Sansevero, il progetto del programma di rigenerazione urbana, il mosaico di Sansevero, con 55 milioni di euro previsti per il completamento del sistema di collettamento delle acque bianche. Progetto più costoso, quello di Confindustria, 1 miliardo e 360 milioni di euro per il fotovoltaico flottante da impiantare su specchi d'acqua e invasi. 9 i progetti degli industriali, tra cui la Fattoria di Giulia, sistema produttivo agricolo fotovoltaico per il ripopolamento delle api per 58,8 milioni e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale ASI di Foggia, con il progetto di trasformazione in area industriale dell'ex aeroporto di Borgo Mezzanone stimato per 145 milioni di euro. Per l'Università di Foggia, 144 milioni di euro da spendere per il campus universitario in fiera e la trasformazione dell'ex caserma Miale in polo universitario. Tra gli altri 17 progetti ancora da presentare, anche quello di Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza con una richiesta totale di 234 milioni di euro.